Amici di Teatro, Un cordiale saluto a tutti voi e un saluto anche a quanti ci stanno seguendo attraverso le frequenze di Radio Pace. Bentrovati a questo nostro appuntamento settimanale Lombardia Live, rigorosamente in diretta. Saranno tre gli argomenti di cui ci occuperemo in questa puntata, iniziando a parlare dell'ormai imminente beatificazione di Suora Maria Laura Mainetti. La celebrazione si terrà il prossimo 6 di giugno, celebrazione che Tele Pace trasmetterà in diretta sul canale Tele Pace 2, mentre alle 21 sarà riproposto sul canale Tele Pace 1, sempre del 6 di giugno. Parleremo anche del Consorzio Farsi Prossimo di Milano e poi avremo in collegamento il direttore del Pime di Milano, padre Mario Ghezzi. Parliamo di Suora Maria Laura Mainetti dunque e abbiamo graditissima ospite ad aprire questo nostro appuntamento, Francesca Consolini. Grazie di essere qui con noi, Francesca Consolini che è la postulatrice della causa di beatificazione di Suora Maria Laura Mainetti. Lo ricordiamo, Suora Mainetti venne uccisa il 6 giugno del 2000 a Chiavenna, siamo in provincia di Sondrio, ma Diocesi di Como, aveva 61 anni di età. Le chiedo di dirci chi era Suora Maria Laura Mainetti. Posso rispondere al di là dei dati biografici che comunque in parte li ha già dati lei, era soprattutto una religiosa, una figlia della croce, che questo è un dato molto importante perché lei è entrata molto giovane in questa congregazione religiosa quando ha sentito il desiderio, la spinta, lo sprone che la vita non andava sprecata, di voler fare qualcosa di bello per gli altri, per Dio e per gli altri. E da lì la sua decisione di diventare religiosa, religiosa tra le figlie della croce. Perché questo è importante? Perché Suora Maria Laura ha assimilato profondamente fino in fondo il carisma di questa congregazione religiosa, tant'è vero che dal giorno della sua professione religiosa, lei quando si firmava, firmava Suora Maria Laura figlia della croce ed era fiera di questo titolo, come lei stessa diceva, figlia della croce, vuol dire che la croce è una madre, non quella croce di legno che vediamo appesa alla parete, ma sono sposa, figlia e sorella di Gesù, non crocifisso e morto, ma vivo e risorto, che mi vede, mi sente, mi vuole bene, anche se non lo vedo con questi occhi. Lui è tutto per me, è il mio tesoro, l'amore della mia vita e io sono un po' come una bambina, imparo tutto da lui e dal suo Vangelo. Quindi io vorrei dire soprattutto che lei è stata un'autentica figlia della croce, una suora che ha creduto, ha assimilato, ha amato la sua congregazione religiosa e ne ha vissuto il carisma fino in fondo. Perché dico questo? Perché anche nella, diciamo, nelle circostanze della sua morte, si è manifestata questa fedeltà indiscussa proprio al carisma delle figlie della croce. Questa che si concretizzava poi nella vita di tutti i giorni, soprattutto nell'accoglienza, nel servizio ai poveri, nel servizio alle persone che si rivolgevano a lei e in modo particolare nel servizio ai giovani, perché lei è stata soprattutto, era una maestra, quindi è stata soprattutto una grande educatrice di bambini, di agami, di giovani. Mi perdone se l'interrompo. Lei recentemente in un'intervista rilasciata a Vatican News ha parlato del martirio di Sor Maria Laura come il coronamento di una vita nel segno dell'offerta di Dio. Sì, diciamo, io se anche non avesse dato la vita nel martirio e in odio alla fede, sicuramente Sor Maria Laura sarebbe stata, poteva benissimo avviarsi agli onori degli altari con il riconoscimento delle virtù eroiche, perché veramente se esaminiamo la sua fede, la sua speranza, la sua carità, tutto l'insieme, diciamo, di quella che può essere la sua vita, la globalità della sua vita, noi ci troviamo davanti a una persona, a una religiosa, a una donna, a una consacrata, che ha vissuto fino in fondo il messaggio proprio del Vangelo. Cioè lei il battesimo l'ha vissuto con coerenza veramente fino in fondo. Lei visse sempre protesa al tutto, a dare di più, ad amare di più, a sperare di più, a credere di più, fino ad assimilarsi a Cristo a quale aveva donato senza riserve tutta se stessa. Una vita attesa a Dio solo, amato, cercato e servito nei fratelli, in ogni fratello che a lei si rivolgeva, poteva essere il bambino, il povero, il malato, l'anziano, la mamma, una ragazza, chiunque poteva arrivare, una vita attesa così, una vita mangiata, come diceva lei, perché bisognava farsi mangiare dei fratelli, ha trovato il suo naturale coronamento nel martirio, cioè nel dono di tutto se stessa. Ma ripeto, comunque lei aveva tutti i numeri per arrivare alla beatificazione anche attraverso la via delle virtù. E rappresenta un tipico esempio di quei santi della porta accanto, di cui tanto parla Papa Francesco. Sì, perché lei, se esaminiamo la sua vita dal punto di vista di cosa ha fatto, non ha fatto delle cose straordinarie, era una maestra, quindi ha insegnato, era un'educatrice, si occupava delle giovani che erano affidate anche alle sue cure, alla sua direzione, ma si può proprio dire che la ferialità, come dice Papa Francesco, è stata la dimensione nella quale Sor Maria Laura ha vissuto la sua fede e la sua santità. Lei scriveva, nella quotidianità dei miei gesti mi chiedo, cosa avrebbe fatto Gesù al mio posto? E forse scoprirò che anche in me opera qualche meraviglia e allora vivrò nella gratitudine, nella gioia e nel canto. Un sì gioioso ogni giorno a lui che mi attira, di cui mi fido e a cui mi affido. Quindi una vita proprio, come dice il Papa, perché il Papa dice ti devi santificare nella tua via, là dove il Signore ti ha posto, portando a pieno frutto il battesimo che hai ricevuto. E la ferialità è stata proprio la sua dimensione, definiva un piccolo granello di sabbia, quindi niente di eccezionale, niente di fuori dal comune, e difatti nella sua vita non ha fatto delle cose straordinarie. se non vivere questa ferialità con assoluta ed eroica fedeltà, il che diventa veramente qualcosa di straordinario. E oggi a chi parla, Suor Maria Laura Mainetti, con la sua testimonianza, con il suo esempio, con quello che ha compiuto nella quotidianità della sua vita? Parla a tutti, non soltanto alle sue consorelle che hanno avuto il dono di averla appunto come sorella. Parla veramente a tutti, perché quando si vive, come abbiamo appunto detto, con fedeltà nella ferialità, là dove il Signore ti ha posto, come dice il Papa nella Gaudete d'Exultate, quando dice vivi bene il tuo battesimo, ma non ti mettere davanti delle mete irraggiungibili, perché poi ti scoraggi e dici questo non ce la farò mai a farlo. Ma vivi là bene nella tua vocazione, dice il Papa, di religioso, di consacrato, di sacerdote, di laico, nella famiglia, nel lavoro. Lei ha vissuto così, quindi direi che quello come ha vissuto lei è un messaggio rivolto a tutti, rivolto a tutti nella fedeltà della quotidianità. Lei è stata fedele alla sua chiamata alla vita religiosa, ma fedele nelle piccole cose, fedele nell'accoglienza. La sua erocità era fatta di piccoli gesti. Quando lei diceva, per esempio, che bisogna, bisogna essere, imparare ad essere sempre disponibili con Gesù che ci viene a disturbare. Ma chi è questo Gesù che ci viene a disturbare? È il fratello che ci viva accanto, che magari nei momenti meno opportuni ci viene a chiedere qualcosa, una parola, un consiglio, un sorriso, un aiuto. La risposta che noi diamo a questo Gesù che arriva e bussa sotto le spoglie appunto di un fratello che in questo, in un dato momento, può essere anche importuno. Ecco, questa è la fedeltà di tutti i giorni che ci porta a farci santi, come dice il Papa e come ha vissuto lei. Quindi, questo suo vivere così nella quotidianità, senza però cedere alla banalità, senza cedere a dire la routine di tutti i giorni, perché ogni giorno, lui diceva, lei diceva, ogni giorno è sorpresa, perché Gesù è la novità quotidiana. E diceva, sottolineo, quotidiana, perché ogni giorno c'è lui che è il Signore, c'è lui che è l'amore. Quindi io credo che questo sia un messaggio che non sia rivolto solo ai religiosi, ai consacrati, ma sia rivolto a tutti noi, cioè sforziamoci pian pianino di aprirci a questa accoglienza, a questi piccoli sì che costituiscono poi l'essenza della santità cristiana, l'essenza proprio di quello che dice il Papa, fai fruttificare il tuo battesimo. Una, quella che io ho sempre definito, una giovinezza eterna che si vive nel dono di sé, nell'incontro con Gesù nell'Eucarestia e nel fratello d'amare, e soprattutto nella capacità di donarsi con il sorriso, con la gioia, con l'umiltà, andando al di là di quelle che possono essere i drammi, le preoccupazioni, i limiti che ci sentiamo, perché comunque San Maria Laura aveva anche lei i suoi limiti, i suoi limiti di carattere, i suoi limiti di natura, che lei però si è sempre sforzata di superare. E lo diceva, a volte temo i miei limiti, ho paura delle mie sicurezze, mi vergogno dei miei successi, però mi riprendo perché so che comunque il Signore c'è, mi conduce, mi porta avanti. Quindi io penso che questo sia un messaggio che non ha confini né di tempo e né di persona. Benissimo. Io ringrazio Francesca Consolini per averci raccontato, seppur in uno spazio così esiguo di tempo, alcuni degli aspetti di sua Maria Laura Mainetti. Io ricordo ancora i gentili amici che Telepace trasmetterà in diretta il 6 giugno prossimo, a partire qualche minuto prima delle 16, la celebrazione con il rito per la beatificazione di sua Maria Laura Mainetti sul canale Telepace 2, mentre il Telepace 1, quindi dalla sede di Roma, sarà trasmesso alle ore in 21. Grazie a Francesca Consolini e noi gentili amici andiamo avanti con un altro ospite che è il presidente del consorzio Farsi Prossimo, Giovanni Lucchini, che dovrebbe essere in collegamento con noi. Eccolo, buonasera e ben trovato. Allora, parliamo di questo consorzio Farsi Prossimo. Lei è presidente da poco più di un mese, giusto? Ce lo presenti per chi non lo conosce vivendo magari al di fuori del contesto della CTOCESI di Milano? Sì, il consorzio Farsi Prossimo, di cui ho l'onore e in questo momento anche un po' il carico in questa situazione di portare la presidenza, è un consorzio di cooperative sociali nato nel 1998 e promosso nel suo cammino dalla Caritas Ambrosiana, proprio perché ha questa vocazione di coprire tutto il territorio della diocesi ambrosiana, quindi dalla zona di Lecco fino a Rova, Rese e chiaramente Milano, Monza, quindi coprendo tutto con 11 cooperative, di cui 8 cooperative di tipo sociosanitario, quindi che erogano servizi di tipo sociosanitario e 3 cooperative di tipo B, che sono invece quelle che hanno come loro focus di intervento l'inserimento lavorativo di persone con vari tipi di svantaggio. Il consorzio attualmente attraverso queste 11 cooperative occupa circa 2.000 persone, 2.000 dipendenti, di cui circa il 50% diventano poi soci lavoratori delle cooperative e quindi partecipano in qualche modo appunto alla vita cooperativa, alla gestione della cooperativa, ai progetti e alle innovazioni. Il territorio della diocesi di Milano, un po' come tutta Italia, non solo, chiaramente tutta Europa, tutto il mondo, ha avuto le conseguenze drammatiche di due eventi epocali in questo avvio di nuovo millennio, mi riferisco alla crisi finanziaria del 2008 e la pandemia in corso. Qual è la situazione che oggi voi dovete fronteggiare per quanto riguarda il territorio di vostra competenza? Beh, sicuramente una situazione all'interno della quale abbiamo un po' riscoperto anche e stiamo un po' rilanciando quella che oggi come oggi si chiama un po' la nostra mission, quindi quella di imprese sociali, di imprese che devono garantire una propria sostenibilità anche economica, ma con uno sguardo prioritario verso gli ultimi, verso le persone che fanno più fatica. La situazione è ancora sicuramente molto faticosa, teniamo conto dei costi, gestiamo come cooperative tanti servizi residenziali dove la pandemia crea tantissimi problemi di isolamento, pensiamo ai servizi residenziali per la salute mentale, dove l'isolamento di un ospite diventa molto problematico, faticoso per la persona, faticoso per tutti gli operatori che hanno a casa delle famiglie, che hanno continuato a garantire servizi essenziali in questo periodo senza mai fermarsi. La maggior parte dei nostri servizi, nonostante la chiusura, per dire, della primavera scorsa, sono sempre rimasti aperti con tante persone che poi hanno purtroppo avuto l'infezione, quindi turni massacranti, insomma, adesso la situazione oggi, per rispondere alla domanda, sta sicuramente migliorando, grazie ai numeri che stanno migliorando, però sicuramente le situazioni assistenziali dagli anziani ai portatori di disabilità di vario tipo sono sicuramente ancora situazioni faticose, proprio perché un caso di possibile contagio, di pericolo o di segnalazione comporta disagi per tutti, di quarantena, isolamenti, famiglia, quindi comunque una situazione ancora faticosa, a cui però i nostri lavoratori hanno risposto davvero molto, con grande generosità. Ecco, stiamo parlando di un territorio che sia come risposte progettuali, che risorse economiche e umane non si tira mai sicuramente indietro. Le chiedo di affrontare un altro tema adesso, pur affrontando temi legati e collegati all'emergenza, si può contemporaneamente, nel medesimo tempo, pensare a un nuovo welfare che sia basato sulla collaborazione tra i diversi enti? Questa è la strada maestra? Penso proprio di sì. Ascoltavo prima l'intervista precedente e mi ha colpito molto il richiamo alla quotidianità. Ecco, io penso che il nuovo welfare sia un nuovo welfare che ha queste caratteristiche di quotidianità, di territorialità, di vicinanza alle persone, per parafrasare, una frase che viene detta spesso, citata, diciamo, riferita a Papa Francesco, ecco, non ci si salva da soli. Oggi è più che mai vero, non ci si salva da soli, le cooperative non si salvano da soli, le istituzioni non si salvano da soli, ci deve essere un welfare partecipativo, collaborativo, un'altra parola che viene un po' abusata, sussidiario, in cui ci si divide un po' le responsabilità e i compiti e quello che non riesce a fare il pubblico lo fa anche il privato accreditato, il privato che ha una funzione e una vocazione pubblica come le nostre realtà, come tante realtà, non soltanto quelle legate al consorzio. Ci sono tante istituzioni, tante realtà che possono collaborare e noi cerchiamo davvero una grossa sviluppo di questa rete, proprio perché è l'unica soluzione per andare avanti. Parlando invece di pandemia e non solo il servizio sanitario, cosa ha messo in evidenza, secondo lei, questa crisi e di quali risposte c'è bisogno, anche per il futuro, anche quello più immediato? Sicuramente è stato un po' riportato da tutti i mezzi, da tutte le fonti, sicuramente la Lombardia, la nostra diocesi, ha sofferto di questa fatica del territorio a rispondere anche dal punto di vista sanitario alle esigenze, concentrando tutto molto nelle grosse strutture che poi sono andate in difficoltà. Ecco, io penso che proprio la struttura, la realtà delle cooperative, la ricerca di progetti che partano dal territorio, non vengano calati dall'alto, vale, quindi questo concetto per noi forte, di prossimità, di territorio, vale anche, anche se è un po' più complicato, però vale anche per l'aspetto sanitario e quindi strutture come quelle che noi abbiamo avviato con l'iniziativa del poliambulatorio di Viale Jenner o strutture comunque di territorio che possono rispondere, ecco, sono sicuramente la strada maestra. Un altro forse limite che abbiamo patito tanto anche noi è un po' di carenza a livello di informatizzazione. Ecco, anche le nostre realtà spesso lavorano ancora sul cartaceo, lavorano ancora magari su programmi fatti da noi. Ecco, la pandemia con questo bisogno di lavorare in remoto ha sicuramente messo in luce che tanti dati ci mancano e un po' di infrastruttura, di investimento da questo punto di vista sarebbe utilissimo anche dal punto di vista sanitario, di trasmissione dati e di supporto poi alle persone e alle realtà, perché ecco, anche tutto per dire il lavoro, il supporto di medicina del lavoro, dei medici competenti, ecco, ha patito un po' nel garantire i supporti sul Covid, ha patito un po' la mancanza di dati informatizzati a cui attingere. Ecco, chiudiamo questa nostra conversazione parlando di un altro tema, parlando delle periferie di Milano. C'è in corso un progetto come rimargina di rigenerazione dei quartieri che coinvolgono cittadini e associazioni locali, promuovendo competenze e cura di spazi comuni, azioni di comunità. Farsi prossimo c'è? In quale modalità, ma non solo in questo progetto, giusto? Sì, assolutamente. Non mi ripeto sull'importanza del territorio e della prossimità, sono i progetti che più cerchiamo e sui quali collaboriamo. Rimargina fa parte del programma Reaction, promosso dal Comune di Milano, su tre zone di Milano. Noi siamo presenti sul progetto del Gallaratese, dove l'idea è di creare dei presidi di comunità, una volta si chiamavano, delle realtà che possano dare delle risposte molto semplici, di vicinanza ad anziani, a persone che portano disabilità, o comunque a persone che nella nostra società fanno fatica a farsi sentire e a vedere risposte ai loro bisogni. Con il Comune di Milano partecipiamo e collaboriamo con tanti altri progetti, tipo Bella Milano, che è un altro progetto collegato al Comune di Milano, per la cura del verde e degli spazi, con l'inserimento di persone. e ci tenevo, le rubo ancora un minuto, a dire che Consorzio, tramite tutto il lavoro che fa Consorzio e titolare della rete di raccolta di abiti usati, della rete reuse, attraverso i proventi di questa rete, garantisce sul territorio di tutta la diocesi progetti di vicinanza e di territorio in questo anno difficile per 100.000 euro, che sono, diciamo, dati alle cooperative per garantire progetti di vicinanza. E poi ci sono i progetti sui musei, ecco, questa è sicuramente una priorità su cui facciamo tanti investimenti. Benissimo, io la ringrazio per averci raccontato in modo sintetico quella che è la realtà molto articolata, rappresentata dal Consorzio Farsi Prossimo. Magari torneremo a occuparci seguendo i singoli aspetti, in modo un po' più dettagliato nel contesto del nostro programma. Grazie per essere stato con noi e noi andiamo avanti perché abbiamo già in collegamento il prossimo ospite, che è il direttore del PIME a Milano, padre Mario Ghezzi. Vediamo, eccolo collegato. Buonasera, grazie di essere in collegamento con noi. Padre Ghezzi è qui con noi perché nei giorni scorsi ha lanciato un appello per il recupero delle relazioni umane reali. Non possiamo stare senza l'incontro con l'altro in carne e ossa. Se la pandemia non ci ha insegnato questo, abbiamo perso un'occasione fondamentale. Questo è quanto lei ha detto. Ci spieghi un po' più nel specifico la sua riflessione proposta, tra l'altro nel contesto della settimana dedicata alle comunicazioni. Ma mi pare, non dico che sia una riflessione scontata, però una riflessione sicuramente urgente perché la pandemia ci ha privato della relazione con l'altro, ci ha impedito di poterci incontrare non per qualche giorno, non per settimane, ma addirittura per più di un anno. Quindi credo che ne stiamo pagando le conseguenze. E ciò che non deve accadere è il cadere nella tentazione di dire che in fondo la realtà virtuale ci permetta un ampliamento delle relazioni che in qualche modo possa sostituire l'incontro diretto personale in carne ed ossa abitando gli stessi spazi, gli stessi locali. Dico questo perché nei mesi scorsi si sono sentite riflessioni di diverso tipo anche in ambito scolastico, universitario, didattico dove si cominciava a dire ma in fondo alla fine i risultati che la DAD porta sono migliori di quelli che porta l'insegnamento in presenza, la didattica in presenza. e credo che sia una visione molto parziale di ciò che significa educare ed essere accanto soprattutto ai nostri giovani. Lo stesso lo direi per il mondo del lavoro. Diciamo che nulla può sostituire il contatto diretto in particolare anche nel comunicare il Vangelo. Lei fa questo riferimento per esempio nella sua riflessione? Beh, direi proprio di sì. Comunicare il Vangelo parte proprio da questo incontro personale diretto che è veramente insostituibile. Direi che il Vangelo si comunica così come l'ha comunicato il Signore Gesù incontrando persone, camminando per i villaggi andando a pesca con loro e mangiando anche con loro. Alla fine questo è stato ciò che ha fatto il Signore e questo è ciò che siamo chiamati a fare proprio per annunciare il Vangelo. E che voi missionari del PIME fate? Beh, sì, è il nostro lavoro che facciamo in giro per il mondo. Una modalità che poi decliniamo in modalità veramente molto diverse e disparate. Però il cuore di tutto ciò che facciamo punta a questo, proprio all'incontro con le persone per poter annunciare la bellezza del Vangelo. Insomma, alla fine ci interessa poco altro, ecco. Questo è il cuore di ciò che noi tendiamo. Lei ha compiuto il suo servizio missionario a vent'anni in Cambogia, è corretto? E ha anche scritto questa sua esperienza in un volume, il Vangelo in Risaia. Ci parli un po' di questa esperienza e di quello che le ha lasciato? Io sono arrivato in Cambogia da giovane missionario a 33 anni nel 2000 e ci sono rimasto per 17 anni fino al 2017 facendo i lavori più disparati. Beh, innanzitutto lo studio della lingua che ha richiesto tre anni di lavoro e quindi un impegno abbastanza gravoso. Dopodiché sono stato padre spirituale, vice-rettore di un piccolissimo seminario di Prompen, della Capitale. Avevamo solo tre seminaristi di 25 anni che facevano le scuole elementari, quindi si immagini lei. E in contemporanea parroco di una piccolissima comunità che stava nascendo in quel mentre, in quegli anni. Sono rimasto in questa comunità per 11 anni e ho avuto la possibilità di vedere un embrione di comunità che di fatto nel tempo è cresciuto grazie a diverse conversioni di giovani e si è strutturato come una realtà parrocchiale, insomma una parrocchia con tutti i sacri crismi. E forse la cifra di questa comunità, la comunità del Bambin Gesù di Prompen, mi verrebbe da dire è stata la bellezza, un po' perché il luogo, il centro che abbiamo costruito era decisamente insomma molto bello e la bellezza anche della liturgia, cioè il poter offrire la possibilità di un luogo di preghiera dove la liturgia fosse fatta bene, con cura, con una grande partecipazione di giovani. Quindi erano liturgie molto vive che spesso parlavano anche ai buddhisti che ci avvicinavano, ecco. E cosa mi ha lasciato questa esperienza? Prego, prego. Cosa mi ha lasciato questa esperienza? Beh, è difficile da sintetizzare, sicuramente. Mi ha lasciato, mi verrebbe da dire, una grande capacità, come dire, di essere più elastico e disposto molto di più a retrocedere da quelle che sono le mie posizioni o comunque le mie visioni della realtà per cercare la possibilità di incontrare l'altro perché la realtà cambogiana è talmente diversa dalla nostra che se non riesce a fare questo tipo di passaggio difficilmente riesce a incontrare le persone e se non incontri le persone, come vi avevo detto, il Vangelo di sicuro non lo annunci. Certo. E a proposito di incontri, voglio chiudere questa nostra conversazione con lei facendo un riferimento a un'iniziativa che voi come Pime proporrete anche per la prossima estate. Già l'anno scorso eravamo stati da voi a raccontare in diretta, durante un nostro programma, questa esperienza destinata ai giovanissimi. Ci dica un po' come si svilupperà quest'anno questa vostra proposta. Sì, noi proponiamo il Campus Estivi per giovanissimi fino ai 13 anni che avranno come titolo Giro Tondo Gioca tutto il mondo. È un gioco che vuole essere un po' un ponte tra culture che permette ai ragazzi di conoscere un po' se stessi e la diversità dell'altro. Saremo su diverse sedi, saremo qui a Milano, a Bustarsizio, a Villa Grugana, vicino a D'Inversago dove abbiamo una bellissima sede, a Monza nel nostro seminario, a Treviso, a Gorla Minore e anche a Caico. Quindi su diverse sedi incontreremo questi giovanissimi a cui proponiamo un'esperienza di Campus Estivo un po' diversa, un'esperienza missionaria e di incontro con la diversità e le altre culture. Tutte informazioni di queste che potremmo troppo da te e trovare, gentili amici, reperibili nel sito del Pime di Milano. Io la ringrazio per essere stato nostro ospite e averci proposto articolando quella che è stata una riflessione che lei ha rilanciato all'attenzione anche di noi operatori della comunicazione proprio in vista della settimana dedicata alle comunicazioni sociali. ricordo ancora ai gentili amici che il Pime ogni mercoledì alle 21 propone una serie di incontri su tematiche di grande attualità. Questa sera che argomento tratterete? Questa sera abbiamo Alicia Vacas che è la superiore delle Compognane del Medio Oriente direttamente da Gerusalemme. Benissimo, quindi l'appello e l'invito è stato lanciato anche ai nostri telespettatori. Noi siamo arrivati alla conclusione di questo nostro spazio con Lombardia Live solo per ricordarvi che la prossima settimana questa trasmissione non andrà in onda quindi riprenderemo il 9 di giugno alle ore 18 quindi torneremo all'orario consueto e ricordo ancora il 6 di giugno l'appuntamento dalle 16 qualche minuto prima da Chiavenna per la celebrazione con il rito di beatificazione del suo Maria Laura Mainetti che Telepace proporrà in diretta appunto sul suo canale Telepace 2. Grazie e buona serata a tutti voi. Grazie a tutti.